Qui ci troviamo in un'altra delle zone più belle della città, vicino ad una delle chiese più importanti di un quartiere, quello di Corsa Tardie e Benete, la chiesa di San Paolo. Guardate in che stato versa questa aiola. Ora, quando noi sentiamo Papa Francesco che lancia un monito della tutela dell'ambiente, della salvaguardia del verde, della salvaguardia della cura del pianeta, del territorio, i preti non sentono la necessità di intervenire proprio davanti a casa loro, che dovrebbe essere casa nostra, casa di tutti, e i fedeli non sentono il dovere di intervenire, cercare di rendere migliore questo spazio lasciato brullo davanti alla chiesa.